Sabato scorso, a Tambaú, Brasile, è stato proclamato Beato il Sacerdote Donizetti Tavares de Lima, pastore totalmente dedito alla sua gente, testimone di carità evangelica e coraggioso difensore dei poveri. I sacerdoti, le persone consacrate, ma anche i fedeli laici, possano fare propria la testimonianza di fede del Beato Donizetti, con la coerenza delle scelte di vita, ispirati al Vangelo. Un applauso al nuovo Beato!